dai calcio di rigore calcio di rigore per la Virtus Castelfrentano atterrato Teidy in aria rigore netto è ammonito arbitro è ammonito è ammonito ah perché niente il rigore oddio c'è qualcuno ma si è ammonite è ammonito è ammonito l'espulsione due ammonizioni fuori è rigore ammonizioni non regolamenti non che mi spengono venti a cazzo sulla palla sul dischetto Malbone ha segnato Gianluca Malbone Gianluca Malbone numero 7 Gianluca calma Gianluca calma Gianluca vant'è da là Gianluca Gianluca si è fatto ammoni Gianluca ecco 4 a 3 per la squadra locale ripa 2007 la terza rete sul calcio di rigore ad opera di numero 7 Gianluca Malbone 4 a 3 il risultato fino a questo momento non ci cascate non ci cascate vedi se li cacciavo a due persone nel primo tempo ma come viene da parte gira di Gianluca calma Gianluca calma Gianluca così dietro così subito giochiamola sempre giochiamola sempre ammonito Gianluca numero 7 nostro Gianluca Malbone ammonito insieme a una pesata